Sono Franco Garavaglia, dello studio di interni Mocha Design. Se ti occupi di interior design avrai sentito la necessità di presentare i tuoi lavori con i migliori render fotorealistici. Con HomeStyler Pro, con solo 166 euro all'anno, ho potuto realizzare tutto questo e molto di più, oltre a rendere in altissima risoluzione anche foto panoramiche, tour virtuali e video, per il progetto di un semplice appartamento o una villa di prestigio con arredi e finiture e bespoke, per gli interni ma anche per l'outdoor. Con HomeStyler, senza affidarmi a studi esterni e spendere centinaia di euro per ogni progetto e senza bisogno di PC super performanti, HomeStyler opera in tecnologia Cloud Render, una vera forza. HomeStyler non è solo render, è un potente strumento di progettazione e modellazione 3D. Permette di gestire tutto il flusso di lavoro con una singola applicazione, in modo smart e con risultati professionali. Puoi provarlo gratis su homestyler.technobit.it